Salve a tutti gli amici di Professione LED, oggi abbiamo il grande piacere di presentarvi un prodotto che abbiamo messo sul nostro store nella sezione striscia LED DC 24V si tratta di una striscia RGB ad altissima potenza luminosa, parliamo di 12.000 lumen e possiede 120 LED metro SMD 3535 RGB quindi abbiamo un totale di 600 LED e un assorbimento di 120 W su 5 metri questa striscia è adattissima per fare illuminazioni RGB dove è prevista una forte illuminazione questo perché come dicevamo con 12.000 lumen su 5 metri è davvero un'altissima potenza inoltre avendo 600 LED, quindi 120 LED metro, l'effetto puntinato è inesistente quindi quando noi andremo a posizionare la nostra striscia nel profilo in alluminio con la sua copertura opaca ad esempio, avremo una linea continua di luce come se fosse uno dei vecchi neon che non dà nessun effetto puntinato ma una barra di luce continua io adesso vi voglio accendere la striscia, la largo un po' così spero in camera si veda bene l'effetto luminoso ed ecco qui, questo è il colore bianco perché voi come sapete le strisce RGB possono fare il bianco le RGB classiche con l'accensione simultanea dei tre colori primari, rosso, verde e blu questo è il bianco che si accende della striscia poi con il nostro ring come sempre andiamo a fare tutti i colori che desideriamo potete notare l'altissima intensità luminosa di questo prodotto e come la luce sia perfettamente uniforme ovviamente abbiamo come sempre la possibilità di dare i giochi alla striscia quindi la striscia funziona come una normale RGB e può essere utilizzata all'interno in quanto non è prevista la copertura in silicone questa esiste al momento solamente da interno possiamo anche poi dare ovviamente l'abbassamento della luce anche sui giochi quindi lo faccio vedere bene sul singolo colore io posso abbassare, quindi dimmerare la luminosità dare più o meno luce fino ad arrivare a un massimo e poi ritornare sui giochi di colore e dargli tutti i giochi che voglio aumentando e diminuendo nella velocità e allo stesso tempo abbassandone ad esempio la luminosità quindi posso fare un gioco di luce fare più veloce o meno veloce e addirittura gestirne la luminosità adesso per esempio metto al massimo la luminosità e poi aumento anche la velocità del gioco vi mettiamo in descrizione il link di questa striscia e dei prodotti che stiamo utilizzando in questo video per farlo funzionare se avete delle domande in merito a questo prodotto scriveteci da youtube oppure mandateci una mail a info-professionelab.com e vi risponderemo lasciateci un like se vi è piaciuto il video e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale a presto, grazie!